Mercoledì 13 settembre è suonata la prima campanella sull'anno scolastico 2023-2024 per la Regione Marche. È suonata oggi per 46.000 studenti della provincia di Pesorubino, studenti che vanno dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore. Realtà diverse che si convogliano ad esempio qui dove ci troviamo oggi a Pesorostudi in Viale Trieste, un luogo che fino a pochi anni fa non era deputato all'istruzione scolastica, bensì a quella universitaria e che si è trasformato anche in virtù dei tanti cantieri che ci sono in città per quello che riguarda l'edilizia scolastica. Dall'anno scorso qui in Viale Trieste c'è la scuola media Dante Alighieri, da quest'anno si trasferisce anche la scuola primaria Mascarucci di Soria, così come la scuola dell'infanzia Scarabocchio che si trova proprio davanti a Pesorostudi nello stabile di Viale Trieste 391. Soluzioni temporanee che sono state scelte come luogo simbolico per questo via all'anno scolastico, per quello che riguarda il momento istituzionale di saluti, scelto ad esempio questa mattina dal sindaco di Pesoro Matteo Ricci. Il primo giorno di scuola è sempre importante, ogni anno andiamo a salutare le scolaresche, gli insegnanti, i genitori. Quest'anno siamo a controllare i lavori fatti durante l'estate perché è stata un'estate molto complicata, stiamo facendo due scuole nuove, una scuola elementare, anzi tre scuole nuove, una scuola media la Dante Alighieri, una scuola elementare a Santa Maria delle Fabrecie, una scuola materna nuova a Soria, lo Scarabocchio e questo ci ha comportato lo spostamento di diversi ragazzi e la ricerca di soluzioni alternative. Qui a Pesoro Studi c'è la scuola Dante Alighieri e c'è anche la Mascarucci perché abbiamo avuto il problema anche della Mascarucci, in questo caso non perché si fa una scuola nuova ma perché la scuola vecchia non era più adeguata. E quindi a Pesoro Studi c'è tutto il polo di Soria, Dante Alighieri, Mascarucci e Scarabocchio l'asilo in questa zona e quindi un bel centro, diciamo come scuola di emergenza al mare non è proprio male e poi abbiamo dovuto spostare invece la scuola di Santa Maria delle Fabrecie alla sede civica di Vismara. Anche lì è venuto benissimo il lavoro, è una soluzione temporanea in attesa della scuola nuova però diciamo di grande qualità e al tempo stesso abbiamo dovuto spostare l'università perché l'università da Pesoro Studi l'abbiamo spostata a murali nei locali della circoscrizione quindi è stata un'estate complicata, faccio i complimenti agli assessori murgia e posti abbiamo dovuto spendere diverse centinaia di migliaia di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza però è partito tutto bene, l'anno scolastico è in sedi adeguate, belle, forse anche meglio di quelle delle scuole precedenti pur essendo in alcuni casi scuole transitori o di emergenza. Sindaco che nell'occasione è stato accompagnato anche dagli assessori Pozzi e Murgia così come dalle dirigenti dell'ufficio scolastico regionale e provinciale Donatella D'Amico e Alessandra Belloni che hanno portato il loro saluto agli studenti e il loro messaggio di buon augurio per il via all'anno scolastico. Auguro che questo inizio possa essere rappresentativo delle loro aspettative, dei loro sogni che sia un anno di impegno ma anche di divertimento. Ho mandato a tutti gli studenti e tutte le studentesse al mondo scuola della città un augurio per questo inizio di lavorare insieme che è la caratteristica principale che ci contraddistingue come comunità educativa della città e del territorio creare gruppo in classe, creare gruppi con gli insegnanti è sicuramente l'arma vincente per superare ogni difficoltà e anche la realizzazione di questi stabili, provvisori ma bellissimi rappresentano un ottimo lavoro di squadra. Quest'anno come ogni anno abbiamo lavorato intensamente per poter far sì che l'anno scolastico partisse con regolarità avendo anche in cattedra la maggior parte dei docenti, del personale ATA e quindi siamo soddisfatti perché il nostro intenso lavoro estivo, come manifesta il mio pallore, ha già dato i suoi frutti e quindi abbiamo riscontro da parte di tutti i dirigenti che i docenti sono arrivati, sono in cattedra il personale ATA è al suo posto e questo permette di avviare l'anno scolastico con regolarità, con correttezza e quindi senza tentennamenti e senza perdere nemmeno un'ora a favore dei nostri ragazzi.